Lutto per l'attore Gabriel Garco, il padre Claudio Oliviero è morto, che lavoro faceva? Causa, malattia, da giovane somigliava al figlio Gabriel Garbo dice addio a suo padre, oggi 27 aprile 2021, Claudio Oliviero è morto Di recente l'attore aveva confessato le traballanti condizioni di salute del padre, durante un'intervista, e la difficoltà di destrarsi tra la malattia e l'agonia mediatica degli ultimi mesi Scopriamo le ultime parole di Gabriel a suo padre e le foto dell'uomo da giovane Leggi anche, Ares Gate, gli strani incidenti di Garco e Morra, hanno tentato di ucciderli? Foto come è morto il padre di Gabriel Garco? Causa morte, che lavoro faceva? La malattia ad annunciare la morte di suo padre Claudio Oliviero, è stato l'attore Gabriel Garco tramite il suo profilo Instagram L'uomo era un ex pasticcere di Vicenza. Di recente l'attore aveva confessato lo stato di salute precario del padre, a causa di una malattia con cui stava combattendo da tempo Gabriel ha commentato il post in cui annuncia la morte del padre con la seguente di Dascali, le foto di Claudio Oliviero e la somiglianza con il figlio Gabriel Garco Nel giorno della morte del padre, lo ha voluto ricordare con delle foto che ritraggono Claudio Oliviero da giovane Foto di chiocciola Gabriel Garco, IG, Foto di chiocciola Gabriel Garco, IG, Foto di chiocciola Gabriel Garco, IG, Le condoglianze di A Gabriel Garco e a sua madre per la morte del padre Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao!